Alessandra De Leonardis B2U è nata proprio dall'esigenza di creare una collezione di capi che unisse questa nuovissima tecnologia di tessuti che interagiscono con il corpo una volta indossati alla moda. Di conseguenza è nata questa collezione di piccoli pezzi essenziali e la filosofia di B2U è quella di dare la possibilità a tutti di poter sostituire qualunque tipo di capo che normalmente utilizza a contatto con la pelle, dall'intimo alle t-shirt, alle calze, alle leggings e ai guanti con questi tessuti performanti che una volta indossati aiutano il corpo a ringiovanire. La tecnologia naturalmente è nata per altri scopi, scopi terapeutici, poi è stata presentata sul mercato del tessile e noi abbiamo subito incominciato con questa collezione. I primi due capi li ho fatti per me, li ho indossati due mesi, quando ho visto che funzionava al di là di ogni aspettativa è partita la collezione, è nata la collezione B2U. Per adesso i capi diciamo più fashion sono proprio questi guantini, il dorso della mano è una delle parti più delicate del corpo, è risaputo, è anche uno di quelli sul quale qualunque trattamento cosmetico, estetico non funziona. Mentre invece questo tessuto protegge la mano, ridensifica la pelle, quindi la pelle diventa più spessa, il problema proprio del dorso della mano è che la pelle diventa troppo sottile col tempo e diventa un bellissimo lavorato così come facciamo noi con queste pietre, questi svaroschi.